Gelesi incivili to cure o più verosimilmente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che non decolla perché è strutturata male, per non essere cattivi, da chi l'ha partorita nel giugno del 2014? Un po' l'uno e molto l'altro secondo noi. I gelesi, obiettivamente, pulitissimi e rispettosi della loro città, non sono, o meglio, parte di loro non lo sono di certo, ma che ci siano gravissime responsabilità di vario genere, a carico di chi ha concepito, se in buona o mala fede non tocca a noi stabilirlo questo capitolato d'appalto, non esiste altrettanto dubbio. Sommando i due fattori, però, si arriva alla amara conclusione. Dopo due anni esatti dalla partenza della raccolta differenziata dei rifiuti, affidata alla ditta napoletana Tecra, la città continua ad essere sporca. Più o meno di prima, francamente, è una questione di lana caprina, se non che, chi governava prima ritiene che è più sporca ora, dimenticando, troppo in fretta, lo scempio dei cumuli di spazzatura ad ogni angolo di strada di quei tempi e persino la pratica abberrante dell'utilizzo della calce viva a ricoprire lo schifo con grave rischio e in documento sulla salute pubblica. Chi governa oggi, invece, non solo sostiene che la città è più pulita adesso, ma che soprattutto il servizio costa i gelesi molto meno oggi che allora. Punti di vista, si dirà. E no, perché ieri sera ad Agora, che si è occupata della spinosa vicenda, il vice sindaco Simone Siciliano, presente in studio tra gli ospiti, ha spiegato, carte e documenti alla mano, che non è così. E non venendo smentito né dal presidente della Commissione Bilancio, il consigliere comunale di Forza Italia, Totò Scerra, né dal capogruppo consigliere del PD, Enzo Cirignotta, ha spiegato, con l'ausilio di grafici, come il costo del servizio fosse schizzato, soprattutto alla voce servizi aggiuntivi, sotto la passata gestione amministrativa ed in particolare durante il periodo delle elezioni comunali, e come invece si sia assestato verso il basso negli ultimi mesi, con una percentuale di raccolta differenziata che non solo non è diminuita, ma è anzi aumentata seppure di piccole entità percentuali. Sì, ma la città rimane sporca e questo inutile arrampicarsi sugli specchi e sotto gli occhi di tutti. E qui entrano in gioco i due fattori dai quali siamo partiti in questa analisi, ossia i gelesi, sporcaccioni e poco rispettosi della propria città, ed il modo come la Tecra effettua il suo servizio. Perché la stessa Tecra, come ha spiegato anche il suo consulente Filippo Passero, presente in studio, in altre città italiane dove opera è molto apprezzata e tiene puliti quei comuni. Ed allora, perché mai a Gela non ci riesce? Ed anche in questo caso entra in gioco il famigerato capitolato d'appalto firmato da chi, in teoria e solo in teoria, avrebbe dovuto tutelare i cittadini gelesi. Un po' come coloro, stessa pasta e stessa coloritura politica, che firmarono il contratto capestro con Caltacqua. La traduzione è molto semplice, anche se a qualcuno farà storcere il muso. Si sono venduti la città ed i suoi cittadini per accaparrarsi i meri interessi personali. E Gela, ed i poveri gelesi, pagano, come direbbe il principe della risata Antonio De Curtis. A questa interessante puntata di Agora hanno anche partecipato il co-secretario del PD Fabio Collorà ed il segretario generale della CGL Ignazio Giudice. I milioni di euro di debiti fuori bilancio sbarcati in questo periodo in Consiglio Comunale, che sono figli di quei fantomatici servizi aggiuntivi, ed alcune oscure manovre attorno a questo settore delicato, come ad esempio la chiusura della discarica di Timpazzo, decisa dalla Regione appena insediata l'attuale amministrazione comunale e che proprio oggi il TAR di Palermo ha deciso essere stata immotivata, lanciano strali ulteriori su una questione per la quale a pagare in tutti i sensi sono sempre i cittadini gelesi e che prima o poi avrà il diritto di essere spiegata bene anche attraverso decisioni della magistratura, che si spera mettano un punto fermo e definitivo su una storia sicuramente non edificante di questa martoriata città. La replica di questa interessante puntata di Agorandra in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 e sarà visibile dalle prossime ore sui nostri indirizzi social. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con nuovi argomenti e nuovi ospiti che riguardano Gela e i gelesi.